Negli studi di TVC di l'assessore con delega al cimitero Giuseppe Speranza da diverse segnalazioni dei cittadini apprendiamo di un problema di carenza d'acqua al cimitero. Che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Che già da tempo abbiamo individuato tramite dei sondaggi fatti dalla Sessagori delle perdite d'acqua in più parti del cimitero. Alcune le abbiamo anche risolte infatti alcune fondanine che prima non erogavano acqua siamo riusciti a sistemarle perché c'erano delle perdite. Purtroppo l'impianto che abbiamo al cimitero è stato costruito in più momenti in più epoche. La parte dove c'è questa grossa perdita d'acqua che ancora non siamo riusciti a individuare effettivamente la location risale alla notte dei tempi. Si sta pensando subito dopo questo periodo di vacanza di provvedere a una sorta di indagine sotterranea, geognostica. Non conosco i termini tecnici ma sicuramente c'è da parte dell'amministrazione e dell'ufficio un'attenzione particolare per questa carenza d'acqua che noi già conosciamo. Vi fa piacere che i cittadini si rivolgano anche alla stampa per sollecitare però è una questione che conosciamo ma che non siamo ancora riusciti a risolvere per tante motivazioni. Un lavoro che dovrete fare anche con l'ausilio della Gori? Sicuramente la Gori sarà la parte esecutrice ma la parte proponente siamo noi come amministrazione perché effettivamente delle perdite d'acqua sotterranea di cui non se ne conosce nella provenienza e nella direzione incomincerà anche un tantino a preoccupare. Al di là dell'aspetto dei consumi, che sono devo dire abbastanza notevoli però anche dall'aspetto ambientale, dall'aspetto strutturale questa cosa onestamente mi preoccupa. La Gori è venuta già più volte sul territorio, ha individuato delle piccole perdite ma la grossa perdite che purtroppo persiste ancora non siamo ancora riusciti a identificarla. Parliamo del cimitero, parliamo invece di interventi di restyling, che cosa c'è in cantiere in tal senso? Diciamo che abbiamo nella variazione di bilancio che stiamo da qui a poco approvando e che approveremo, una è stata già approvata e approveremo ancora, abbiamo messo una posta in bilancio per il restyling, per la ristrutturazione di alcuni compresi che hanno proprio bisogno di essere ristrutturati. Altre iniziative che sicuramente metteremo in itinere, per esempio con l'acquisto di nuove scale per compresi nicchiari che non dispongono di scale, tante persone sono rivolte più volte anche al sottoscritto perché non possono raggiungere i propri cari nei piani più alti dei loculi, quindi anche le scale, un certo numero di scale saranno sistemate ove ne ha bisogno e dove c'è necessità.